I wonder if you can see me Mr. Kennedy If you even scratch her I'll break your bones First we shall see if you can make it this far I'll be waiting Eccolo lì Ah per un po' lo farò fuori questo sarà zero Per un po' lo faccio fuori Ah non avevo tirato questa Che bello ho già fatto ho già risolto Siamo nella clock tower dei Castelvania Ho aperto la porta Oh my god quanta gente Allora qua è pericoloso E non ho intenzione di morire O vado su di nuovo a scappare Ho scoperto che non è che andando su ti salvi No eh Via te Vabbè si è ammazzato da solo Va bene quello Giornata senza mai morire oggi eh No Però volevo beccare questi nemici qua Li ho visti al piano terra Eccoli Eccoli Ho visto Eh ho sbagliato tasto Cioè il tasto è giusto Però Eh vabbè No mi hanno decapitato No Vabbè dai Andrò mi fa ripartire da qua Dai Giornata senza morire dicevo No Ma ti pareva che arriva la gente eh Alla faccia della gente Non è normale sta cosa Non è normale per niente Allora Ma non ti avevo preso Vabbè Sì Vabbè Sì Vabbè 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 ne c'ho qualcosa che mi interessa Vabbè direi che ce la posso fare purtroppo ho finito tutte le cose buone mi consiglia probabilmente il gioco il fucile a cecchino posso cavarmela con questo vedete? no vabbè dai non ci credo mi è spuntato qua e ci dobbiamo curare potrei ignorarli e passare oltre si posso anche farli no ma dai adesso mi faccio fuori solo per un questo in principio aia no non vado a sprecare il mio la mia ultima accecante è ancora vivo questo non è stata una bella idea eh stiamo scherzando stiamo scherzando ai dia capo l'altro mi ha già preso usiamo sta magnum non è bastato un corpo di magnum per favore non è stato un corpo di magnum per favore e si poi che tensione no vedo no vedo no vedo è andata benissimo cosa succede adesso di nuovo lui ma dai non me ne aspettavo alcun viene non 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 ma